Annabeth «Cosa è questa storia?» La voce del dio dell'abisso risuonava in ogni angolo degli inferi. «Perché sei venuto, figlio rinnegato?» Il dragone meoniano sbatte le zampe a terra e ruggì. Damaseno lanciò un'occhiata ad Annabeth. Il messaggio era chiaro. «Andate subito!» Poi si rivolse a Tartaro. «Padre, desideravi un avversario più degno?» Domandò con calma. «Io sono uno dei giganti di cui vai tanto fiero! Volevi che fossi più bellicoso? Forse potrei cominciare... distruggendo te!» Damaseno puntò la lancia e partì all'attacco. L'esercito di mostri gli si fiondò addosso, ma il dragone abbatté tutto ciò che incontrava sul proprio cammino, sferzando la coda e spruzzando veleno, mentre il gigante vibrava colpi contro Tartaro, costringendolo a ritrarsi come un leone messo all'angolo. Bob si allontanò esitante dalla battaglia, con Bobbino dai denti a sciavola al suo fianco. Percy gli diede tutta la copertura possibile, facendo scoppiare i vasi sanguigni nel terreno l'uno dietro l'altro. Alcuni mostri si disintegrarono nell'acqua dell'ostige, altri si beccarono una doccia del cocito e crollarono a terra, gemendo disperati. Altri ancora vennero innaffiati dall'ete e cominciarono a guardarsi intorno con occhi vacui, senza più sapere né dove né chi fossero. Bob zoppicò verso le porte della morte, con licore dorato che sgorgava dalle ferite sulle braccia e sul busto, la tuta da inserviente stracciata. Camminava storto ingobbito, come se spezzando la sua lancia, Tartaro avesse spezzato anche qualcosa dentro di lui. E tuttavia sorrideva felice. I suoi occhi d'argento scintillavano soddisfatti. «Andate!» ordinò. «Premerò io il pulsante!» Percy lo guardò sgomento. «Bob, non sei nelle condizioni di...» «Persy!» La voce di Annabeth era quasi rotta dal pianto. Stava per acconsentire al sacrificio di Bob e si odiava per questo, ma sapeva che era l'unica soluzione. «Dobbiamo farlo! Non possiamo lasciarlo qui?» «Sì, invece, amico. Dovete!» Bob diede a persi una pacca su un braccio, scaraventandolo quasi a terra. «Sono ancora in grado di premere un pulsante!» «E ho un bravo gatto da guardia!» Bobbino dai denti a sciavola ruggì in segno di assenso. «Il vostro destino è tornare nel mondo!» Continuò il titano. «Ponete fine a questa follia di Gea!» Un ciclope urlante, che sfrigolava per lo spray velenoso, volò sopra le loro teste. A una cinquantina di metri di distanza, il dragone meoniano avanzava calpestando i mostri, producendo con i piedi uno sgradevole squish-squish come se stesse schiacciando grappoli d'uva. Sulla sua groppa, Damaseno gridava insulti e colpiva Tartaro con la lancia, allontanandolo sempre di più dalle porte della morte. Il dio dell'abisso indietreggiava passi pesanti, creando crateri per terra con gli enormi stivali di ferro. «Non potete uccidermi! Sono l'abisso in persona! Sarebbe come tentare di uccidere la terra! Io e Gea siamo eterni! Noi vi possediamo corpo e spirito!» Tartaro calò un pugno enorme, ma Damaseno si scansò, conficcandogli il giavellotto sul lato del collo. Il dio ringhiò, evidentemente più seccato che ferito. Girò la faccia vorticante verso il figlio rinegato, ma lui si spostò in tempo. Una decina di mostri furono risucchiati nel vortice e disintegrati. «Bob, no!» disse Percy con gli occhi supplicanti. «Ti distruggerà per sempre! Senza ritorno!» «Senza rigenerazione!» Il titano scrollò le spalle. «Chi può dire cosa succederà? Voi però dovete andare via, subito! Su una cosa Tartaro ha ragione! Noi non possiamo sconfiggerlo! Possiamo solo farvi guadagnare un po' di tempo!» Le porte della morte tentarono di chiudersi sopra il piede di Annabeth. «Dodici minuti!» assicurò Bob. «Questi ve li possiamo dare!» «Persi, tieni le porte!» Con un salto, Annabeth gettò le braccia al collo del titano. Gli stampò un bacio su una guancia, con gli occhi appannati dalle lacrime. La faccia ispida di Bob sapeva di prodotti per la pulizia. «Lucidante per mobili al limone e olio per il legno!» «I mostri sono eterni!» Gli disse, cercando di non singhiozzare. «Vi ricorderemo come eroi! Come il miglior titano e il miglior gigante del mondo! Lo racconteremo ai nostri figli! Manterremo viva questa storia! Un giorno vi rigenererete!» «Bene!» Bob le scompigliò i capelli, sorrise, e gli si formarono delle rughe di commozione intorno agli occhi. «Fino ad allora, amici miei, salutate il sole e le stelle da parte mia! E siate forti! Probabilmente questo non sarà l'ultimo sacrificio che dovrete compiere per fermare Gea!» Allontanò Annabeth, con delicatezza. «Non c'è più tempo! Andate!» Annabeth afferrò Persi per un braccio e lo trascinò nell'ascensore. Scorse di sfuggita un'ultima immagine del drago che scrollava un orco come un pupazzetto di stoffa e di damaseno che tormentava con la lancia le gambe di tartaro. Il dio dell'abisso indicò le porte della morte. «Mostri, fermateli!» Bobbino dai denti a sciabola si accovacciò e ruggì. «Pronto ad attaccare!» Bobb fece l'occhiolino ad Annabeth. «Tenete le porte chiuse da dentro!» Si raccomandò. «Si opporranno al vostro viaggio!» «Tenetele!» I pannelli dell'ascensore si chiusero.